Cerimonia semplice ma carica di significato in mattinata a Palazzo Giustiniani a Roma. Il Presidente Luis Donvalder ha incontrato il senatore e sette volte Presidente del Consiglio dei Ministri, Giulio Andreotti. Scopo della visita è la consegna del grande ordine al merito della provincia di Bolzano. Il Presidente Donvalder ha ribadito quanto aveva già espresso nella cerimonia ufficiale di Casteltirolo il 5 settembre dell'anno scorso. L'onorificenza in oro con l'Aquila tirolese vuole essere il riconoscimento per l'impegno a favore dell'Alto Adige. Devo dire che Andreotti ha fatto moltissimo perché lui partecipava a questa vita politica dal 1946 in poi. Lui è uno dei pochi che faceva parte anche delle delegazioni a Parigi quando hanno trattato del primo Statuto di Autonomia. Poi l'ha più accompagnato per tutti gli anni 50 e 60 e poi anche per le norme di attuazione. Lui sette volte faceva il Presidente del Consiglio dei Ministri e io personalmente ho ancora trattato con lui nel momento della chiusura. Devo dire che lui era duro però sempre aperto. Quando alla fine non abbiamo saputo come andare avanti, lui ha sempre trovato una via d'uscita. Lui è anche convinto della necessità e anche dell'importanza sia per il gruppo linguistico tedesco, ladino e anche per quello italiano. Perciò a lui dobbiamo dire grazie e questo lo volevamo esprimere con questa onoreficenza. Andreotti, 90 anni compiuti a gennaio, per ragioni di salute non aveva potuto essere presente alla cerimonia dello scorso 5 settembre. Grande la sua soddisfazione per il riconoscimento ufficiale della provincia di Bolzano. A me emoziona perché mi riporta a momenti nei quali era difficile far capire ad alcuni dei nostri che la strada giusta era quella di comprendersi, di lavorare insieme, di avere insieme l'idea di un futuro da costruire. Oggi dobbiamo essere grati a coloro che hanno lavorato in questa direzione e dobbiamo continuare ovviamente. Grazie.